Ciao a tutti amici di Rumaview, bentrovati, eccoci qua con un nuovo unboxing ed andiamo ad unboxare la nuova uscita Midnight Classic che vi ricordo è disponibile in esclusiva solo sul Fan Factory Shop di Coach Media, lo store proprio ufficiale di Coach Media dedicato a tutti i suoi prodotti e che racchiude molte esclusive che vi sto presentando man mano nei mesi e in questo caso abbiamo la nuova uscita che è per l'appunto Il Villaggio dei Dannati, il remake di John Carpenter uno splendido remake anche se molti anche giustamente preferiscono il capitolo originale e la versione originale non il capitolo originale e comunque commentano questo titolo come inutile però in realtà secondo me è un gran bel titoletto che grazie alla Midnight Classic arriva finalmente in versione HD come avete potuto vedere è limitata, mille copie come al solito e vi ricordo disponibile in esclusiva solo sul Fan Factory Shop è una versione a singolo Blu-ray quindi non doppio Blu-ray e ovviamente all'interno abbiamo sia il book da collezione che una poster card devo dire che c'è da fare una premessa il video di questo Blu-ray non è allo stato dell'arte è l'unico master disponibile in tutto il mondo quindi non ce ne sono master migliori si vede secondo me discretamente bene ma è lunghi dall'essere restaurato come gli ultimi restauri che siamo abituati a vedere quindi è un master abbastanza datato ma ripeto è l'unico disponibile sul mercato e secondo me ma ce ne mancherebbe altro fa completamente i bozzi al vecchio DVD Universal che vi ricordo è fuori catalogo da una vita le peculiarità di questo box rispetto al precedente DVD se lo avete già in collezione è il fatto che qui ci sono due ore di extra il DVD era praticamente privo di extra e c'è ovviamente audio italiano e audio inglese 5.1 DTS HD Master Audio oltre ovviamente al video in HD che vi ricordo non è restaurato ma comunque secondo me si vede discretamente bene e ci fa vedere il villaggio di Danai e Geocarpeter come non l'abbiamo mai visto ovviamente in postazione domestica poi se l'avete visto a cinema è un altro paio di maniche all'interno troviamo il classico digibook che in realtà non è un digibook perché il booklet come sappiamo è completamente staccato ormai da molte uscite c'è anche la taschina che lo contiene sia digi che card e poi ovviamente il disco Blu-ray ve lo faccio rivedere a figura intera vi ricordo che è una uscita Midnight Classic in collaborazione con la Universal Classic che detiene i diritti di questo film e vi faccio anche notare che è una versione di quelle versioni un po' più slim rispetto alle uscite un po' più corpose un po' più cicciottose io onestamente queste versioni slim le adoro perché sto veramente esaurendo lo spazio e il cartone comunque è sempre rigido come potete sentire e mi fanno risparmiare non poco spazio come dicevamo all'interno abbiamo per l'appunto il disco Blu-ray con oltre 2 ore di contenuti speciali e poi abbiamo il booklet redatto sempre dai ragazzi della redazione di notturno e poi abbiamo anche la poster card guardate che sciccheria io la trovo veramente gagliarda veramente bellissima andrebbe fatto un mega una mega cornice con tutte queste queste card della Midnight Classic e poi ovviamente si va a snaturare un po' il copanetto però le meriterebbero ovviamente poi abbiamo anche una splendida immagine all'interno ma vogliamo commentare anche l'artwork clamoroso realizzato dal team Vertigo io lo trovo veramente stupendo come al solito veramente fanno un ottimo lavoro e poi come dicevamo non manca anche il booklet che è sempre redatto dalla redazione di notturno con tantissime informazioni sul film e anche delle splendide splendide immagini ce n'è anche qualcuna a figura intera quindi doppia pagina e vi ricordo che questo è un titolo esclusiva fanfactory shop ve lo linko nella descrizione troverete il link allo shop insomma se vi interessa tra l'altro devo dire che a lancio non costa neanche tantissimo proprio perché è un titolo comunque a singolo disco ed è un titolo che non ha appunto non presenta un nuovo un nuovo master ma al master che è uscito già negli Stati Uniti parecchi anni fa quindi è il medesimo master che possiamo trovare all'estero però ripeto secondo me è un'uscita se siete fan di Carpenter assolutamente rinunciabile perché il DVD è fuori catalogo da una vita si vede una bondezza al giorno d'oggi questo si vede assolutamente molto molto meglio vi beccate due ore di extra vi beccate il 5.1 HD DTS sia per l'italiano che per l'inglese vi beccate una bella confezione vi beccate una bella card e vi beccate un bel film del maestro John Carpenter per questo video ragazzi è tutto se vi è piacere iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per restare aggiornati sull'uscita dei prossimi video se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e io vi faccio anche i miei migliori auguri di Natale come da maglietta natalizia che poi natalizia non è però è rossa che poi il rosso andrebbe messo pure a capodanno comunque avete capito ciao a tutti e tanti auguri